ehi ciao ti posso chiedere il motivo per cui sei così triste prendiamoci un buon test potrebbe essere che sarà il tuo ultimo giorno per te quindi sorridi un po' per me ehi tu ehi tu non devi piangere per ora puoi ancora vivere fai ciò che vuoi e lo sai il perché tu sarai tra le margherite dove vita non c'è tu sarai tra le margherite dove vita non c'è lo sai potrei anche dire ho avuto un'ultima occasione per poterti divertire quindi perché non stai qua ti farò diventare una star facendoti sparire ehi tu ehi tu non devi piangere per ora puoi ancora vivere fai ciò che vuoi e lo sai il perché tu sarai tra le margherite dove vita non c'è ha ciò che saremo tra le margherite dove la vita non c'è